Allora, De Rossi stamattina è stato a Radio 2 e adesso noi commentiamo alcune sue risposte perché vedrete che domani ne parleranno tutti i giornali e noi lo facciamo a caldo. Da par suo, come sempre uso fare, De Rossi ha parlato da uomo, dicendo esattamente quello che penso. Leggiamo alcuni stralci, Fraglio. È partita l'intervista ovviamente sul punto di vista personale, lui ha parlato del suo rapporto con Tamara, non si pente soprattutto perché dal rapporto, dal matrimonio con Tamara è nata la cosa più bella della sua vita che è Gaia. Poi nel finale dell'intervista è entrato anche sul calcio, gli han chiesto tu e Totti apparite diversi, cosa ti piace e cosa non ti piace? E lui ha risposto sicuramente siamo diversi, lui sembra un ragazzo di un'altra epoca, spavaldo, sicuro, con personalità, ha una luce dietro, nessuno ha quello che ha lui, non mi piace però il fatto che sia per maloso. De Rossi ha raccontato anche di aver litigato con Totti anni fa e ha detto non ci siamo parlati per un po' di tempo. Su Capello gli han chiesto quando è arrivato Capello Totti dov'era, dice non lo so, lo so adesso che non si sono parlati, io quando vedo Capello penso questa è una persona che mi ha fatto del bene, è stata la persona più importante per me a livello di crescita calcistica. Gli hanno chiesto quindi tu non provi quel pensiero di abbandono da parte di Capello? E lui ha detto se fossi solo tifoso sì, ma questo sentimento è associato al bene che gli voglio per quello che ha fatto per me. Ero anti Juve, anti Rippie, poi lo stesso Rippie è stato quasi un padre. Poi Luis Enrique gli han chiesto è evidente, ha un credo preciso, ha delle regole di gioco comportamentali, non scende a compromessi, è stato giocatore di recente, è vicino a noi. E poi quest'anno non si vince, è mesade no. Ecco, e poi ha detto anche un'altra cosa relativamente a ciò che lui è dentro. Cosa ha detto? Allora per quanto riguarda poi Roma ha detto Roma ti fa paura oppure ti senti voluto bene. Ha detto che nei primi anni si ha avuto paura, si è dovuto ambientare ma dopo un po' uno ci fa il callo. Ha detto di essere una persona vulcanica ma che la città di Roma tende a farti chiudere diciamo in te stesso. Però nello spogliatoio ha detto non c'è assolutamente. Questa è la cosa più importante che ha detto secondo me, a parte il fatto di rivendicare i gesti della sua vita come noi tutti. Che c'entra? Ti penti di aver sposato? Ma che c'entra? Di che cose si deve pentire un uomo quando sentimentalmente scondivide una donna? Gli hanno chiesto a me, hai pensato? Ma chi me l'ha fatto fare? Eri giovane quando ti sei sposato con Tamara. Lui dice appena ti separi sei sempre nervoso, scosso, normale. Chi me l'ha fatto fare non l'ho mai pensato. Non sarebbe Natagaglia la gioia più grande per me. E allora questa è una risposta bellissima. Dunque commenti, commenti a quanto abbiamo sentito. Dai Tonino. Su l'aspetto privato è una risposta molto bella. Ovvio no? Natagaglia, veramente. C'è tanto De Rossi in questo. E poi quando parla di Totti invece mi sembra che parli di se stesso. Perché io lo vedo forte di un'altra epoca con una luce dietro. De Rossi io lo vedo. Ho sempre visto così. L'ho anche scritto così. Sapevo della litigata, ma stiamo parlando di anni fa. E della stima per Capello ce l'ha sempre avuto. E l'ha sempre rivendicata da giocatore onesto e vero. Ma questo è quello che ci ha avuto il coraggio di dire a chi lo interpellava. Ma a parte Capello, ha detto Emerson. Emerson è la persona migliore che abbia io incontrato. E perché? Perché poi non ha detto perché anche, no? Per questi quattro, hai capito, diffamatori a gettone. Hai capito? Giustamente riesce anche a distinguere noi. No, ma c'è. Però lui parla da uomo, Torino. Lui parla da uomo, capito? Lui lo sa quando Emerson andò da esposito e gli disse Allora famo una cosa. Mo prima di darli a me i soldi dai a loro e poi dai a me. Hai capito? No, questi quattro diffamatori da catto. Vabbè, non me fate incazzare su sta storia. Sono i professionisti della mentonica. Roma è fatta per un mercante, uno che chiedeva i soldi. Era l'unico che aveva accettato la riduzione dei costi di legno. Quindi a Roma si è parlato che la sindacalista è diventata veramente un altro discorso. Vabbè, ritorniamo comunque alle parole di Ideros. Ecco, lui dice ad un certo punto, molto bella, molto bella questa intervista, soprattutto le risposte. Lui dice relativamente a Roma, ecco, dice una cosa... Vene o Roma ti fa paura? Lui dice non più ci sono stati due o tre anni di ambientamento. No, 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 quando lui dice che dentro è un vulcano e... Allora gli chiedono se hai una presenza taciturna con l'esterno, non sei un presenzialista. Sei capace di garantire l'equilibrio all'interno. Lui dice è diverso quello che appare fuori da quello che sono dentro. Sono un po' un vulcano dentro, nel quotidiano e nello spogliatoio. Fuori tendo a chiudermi. È anche la piazza di Roma che tende a chiuderti. Eccolo qua, questo è Agostino di Bartolomei. Questo è Agostino di Bartolomei. Eccola qua la risposta. Bello. E ovviamente poi, inducendo questi campioni, queste preziosità anche di persone, a questi comportamenti, si perde tantissimo. Ma è ovvio, lui lo dice, io non posso essere me stesso all'esterno. Perché poi dopo c'è tutto il ritorno. No, 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 Carlo. Ma sì, ma è così, è assolutamente così. Ma questo è un uomo vero. Ma è un uomo vero non adesso, da tanti anni, insomma. E poi è chiaro che è un uomo che ha in qualche modo metabolizzato anche le esperienze negative e ne sta uscendo e ne è uscito veramente alla grande, come uno come lui può fare e sa fare. E questo è un giocatore che è una delle cose più preziosi che comunque abbiamo. E Daniele De Rossi rimarrà comunque a Roma e sarà comunque a Roma. Conosce molto bene l'ambiente qua. Sa perfettamente con chi si deve confrontare e chi ha comunque davanti. Sa bene tutto quello che comunque gli hanno detto e gli è stato fatto, insomma, in questi anni. Ma comunque anche a livello di diffamazione, tutto quello che ha comunque dovuto sottire. Ma questo è un giocatore preziosissimo e sarà il punto fermo comunque. Poi dice un'altra cosa, le chiedo a Patrick, che dice di Francesco Totti, è un ragazzo che ha una luce, è meravigliosa. Insomma, questi sono due fratelli di vita in sostanza. Però dice la cosa che non mi piace di lui è che è permaloso. E chiedo allora a Patrick, in questa permalosità di Totti ci può essere il non saluto a capello nell'occasione della visita di ieri? Perché ovviamente sappiamo tutti quello che accade fra Totti e Capello negli anni appunto dello Scudetto, come lo trattava Capello, quella fetenzia del suo braccio destro che andava lì e gli riportava tutte le spiate. Insomma, vabbè, tutte le robe che sappiamo. Dai, inutile così. Allora, questa permalosità la potrebbe mitigare oggi dall'alto della sua grandezza Francesco Totti nei confronti del prossimo? Sì, secondo me sì. Anche vedi Baldini, no? Quest'estate, quando ha parlato di pigrizia, no? Specificandola bene. Anche lì magari Totti stesso l'ha detto in conferenza stampa, me la sono presa male, tutto quanto. Sono un po' rintanato in me, no? Facendo poi magari parlare altri al suo posto. Quello sì, no? Carlo, tu che lo conosci proprio bene, bene, bene. Come? No, ti chiedevo a Carlo, Carlo Zampa. Tu che lo conosci bene, bene, bene. Lui veramente può considerare che se volasse più alto su queste piccole cose ne acquisterebbe tantissimo? Io penso che lui abbia già fatto passi da gigante rispetto a tanti anni fa. Però sì, sicuramente sì, insomma dimostrerebbe veramente quella che è tutta la sua grandezza e la sua superiorità. Io penso che lui ci sia anche rimasto male di fronte a certe cose che Capello disse. Sì, Capello disse, parlate con Totti, Napoli-Roma... Esatto, 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 parlando di professionalità, dicendo appunto ai giovani non frequentate Totti e Cassano, frequentate Emerson e Rossi, ecco, ma Totti non Totti e Cassano. Ma Capello è un tanghero, voglio dire. Però Marcello, per limitare questo difetto lui dovrebbe scendere a patti con l'ipocrisia e io Totti. Ma infatti lui non è ipocrita, non è assolutamente ipocrita. No, allora, la grandezza che intendo io è questa. Arriva Capello a Tricoria, Totti dall'alto della sua cosa, fa, oh mister come sta? Gli dai la guazza, lo pì per culo e gli dici, come va oggi tutto bene in Inghilterra? Ma ci sarà qualcuno, secondo lei, nella nazionale inglese che una sera prima di una partita deve essere soggetto alla sua visita in camera? Che dice mister? O è cambiato, o pì per culo così e lo riduce a zero, hai capito? Dandogli, dandogli la guazza, hai capito? Fa una foto sul giornale di Totti che abbraccia a Capello, si tisce anche immediatamente tutti coloro che magari potrebbero... Lo sai secondo me Carlo, lui ancora è debole e presta al fianco a questo bullismo d'accatto che ancora circola qui a Roma, di qualcuno che gli dice, no perché quella è bella e togliete bella, hai capito? No, ma bisogna vedere, sì, ma quello su quello purtroppo insomma lì siamo veramente a livello di Melma, ma io non credo che insomma ormai Lugo la Melma abbia più a che fare, insomma. No, ma magari così viene sollecita, capito? Per un moto di orgoglio e così. Ah, io ti ho detto, lui ha fatto veramente dei passi da gigante, insomma, mi auguro che ormai sia completamente affrancato, insomma. Perché se lo può permettere Carlo lui, eh? Lui se lo può permettere. Ma no, ma hai detto bene te, cioè un atteggiamento quello tipico da romano che te prende in giro. Hai capito. Te prendo per i fondelli, capito? Io fai una super cazzola, bravissimo. Lui nella maniera straordinaria. Esatto, no, quindi. E ne guadagnerebbe perché lui nel mondo è un simbolo, attenti, eh, perché Totti è un simbolo nel mondo, nel senso che tu giri il mondo e dici Totti, gli si illuminano gli occhi a tutti, quindi lui è... Quello, d'altra parte, è conosciuto invece da tutti proprio per quello che è. Eh, bravo per il contrario, per il tanghero che è, no? E quindi voglio dire, sicché adesso con tutte le riserve della situazione e dei casi, però, insomma, ne guadagnerebbe. Credo che Totti ne guadagnerebbe. Va bene, siamo fuori tempo, ma gli argomenti ci hanno appassionato, perché poi quando riportiamo le cose al vissuto, quel vissuto che noi conosciamo e che è stato sempre strumentalizzato prodomo dei pochi, che ne hanno beneficiato anche economicamente, io, insomma, mi accaloro, mi infervoro, sempre in amor di verità. Tutto proseguirà nel pomeriggio alle 16.30 su 99.8 a tutto campo con Patrick Von Brook e gli amici che abbiamo il mattino qui per il nostro conversare. Un abbraccio a tutte e tre. Tonino Cagnucci. Ciao, Marcello. Ciao, ciao Tonino. Ciao, Patrica, oggi. Un abbraccio a Carlo. Un abbraccio a Carlo. Ciao, un abbraccio a Claudio. Ciao, ciao.